Partirà da Piazza del Plebiscito domenica mattina 30 novembre la 21esima Corsa per la Pace Napoli-Pompei, gara podistica di 28 chilometri che è stata presentata questa mattina al Comune di Napoli. Il primo appuntamento sportivo della città metropolitana, abbiamo già raccolto una grandissima partecipazione di entusiasmo e stiamo orgogliosi di presentare la partenza che ci sarà domenica da Piazza del Plebiscito e l'arrivo a Pompei, un percorso sportivo ma che in realtà è una radice della memoria. Sono, penso, minimamente, posso dire lusingato di presentare questa 21esima edizione della Maratona della Pace da Napoli a Pompei. La competizione, che riproduce il percorso di un vecchio pellegrinaggio religioso, è stata organizzata in collaborazione dai comuni di Napoli e di Pompei e dall'associazione sportiva Bartolo Longo.